E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e benvenuti in questa nuova recensione. In questo gioco Tartarughe Ninja Shredder Revenge vi farò vedere come si trovano i cameo e i collezionabili. Adesso farò un breve video e vi farò vedere come si trova il cameo. In questo primo livello di Tartarughe Ninja Shredder Revenge vi farò vedere come si trova il cameo. Troveremo Barn Thompson. Bene, adesso vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Vi ho fatto vedere il primo cameo ma dobbiamo trovarne altri.